Abbiamo iniziato con l'agricoltura in particolare il vigneto qui sulle prime colline di Ozzano però abbiamo anche anticipato che si tratta di un territorio non solo ambientalmente importante ma anche suggestivo per quello che riguarda le tracce storiche ed eccoci qui allora all'antico borgo di San Pietro e a testimoniare queste vestigia c'è questa bellissima torre del Mille dietro le nostre spalle ci facciamo raccontare tutto da Roberto Carboni che non solo è un amante, un appassionato ma davvero un esperto di questa bellissima storia allora intanto questo si chiamava Castello di Uljanum, Ulziano che è l'antico nome di Ozzano la torre medievale che altro dire? Questo borgo è un borgo alto medievale quindi la prima testimonianza è intorno al 900 diciamo intorno all'anno 1000, 1099 è la data simbolo per il castello e per la torre lo possiamo dire con certezza perché la torre ha tutte le caratteristiche costruttive di quell'epoca c'è anche il basamento in Selenite che lo accomuna a tutti i monumenti principali alto medievale di Bologna ma soprattutto condivide con Bologna la fondazione, diciamo le origini quindi Bononia romana dopo Felsina è coeva di Claterna Claterna rappresenta appunto la base di partenza del borgo come costituzione della sua popolazione perché dopo la perdita delle guerre civili al tempo di Maria Silla, questo lo cita anche Cicerone la città progressivamente viene abbandonata in un modo o nell'altro la popolazione scappa verso le colline, la prima collina che incontra l'abitante antico di Claterna è proprio San Pietro quindi viene edificato questo borgo che viene chiamato Castrum, quindi un borgo fortificato si pensa inizialmente che le fortificazioni fossero su base linea, come si vede proprio all'ingresso del portale della torre, successivamente invece sostituita con materiali invece sassi, rocce eccetera il borgo di San Pietro viene attestato da questo documento che è abbastanza raro per l'epoca perché nel 997 il Vescovo di Bologna Giovanni fa un enfeteusi, cioè consegna i terreni a questo tale Martino che caso strano poi ritroviamo quasi 100 anni dopo come primo notaio di San Pietro quindi c'è una contraddizione nelle fonti, cioè è un borgo fortificato che progressivamente diventa però borgo civile e quindi governa un territorio che va dal borgo di San Pietro fino a Valle e guarda caso corrisponde esattamente con la posizione di Claterna e di un'altra località che ancora oggi esiste, chiama Ponte Quaderna che segna ancora oggi il confine tra l'agro Claternate e invece quello che era il territorio di Forum Corneli cioè per essere chiari il confine politico, amministrativo e culturale tra l'Emilia e la Romagna perché il borgo di San Pietro viene riconquistato a fatica dai bolognesi dopo averlo strappato ai bizantini, una parentesi dai Longobardi, i signori Visconti di Milano e per Bologna rappresenta l'ultimo baluardo verso est, verso la Romagna quindi contro gli sforzi riario delle dinastie di Imola, Faenza eccetera e ancora oggi è così perché dal punto di vista della lingua, del dialetto, degli usi delle cucine è ancora rigente molto della presenza di Bologna ma contemporaneamente si affaccia verso la Romagna e guarda caso questa distinzione di epoca bizantina rimane anche nell'Italia preunitaria perché abbiamo avuto per diverso tempo Ozzano di sopra e Ozzano di sotto e per esempio è il primo luogo in cui viene concesso una licenza per poste telegrafi avete visto l'osteria, ancora l'insegna sia delle poste telegrafi che la cassetta postale di epoca dei Savoia quindi con ancora lo stemma dei Savoia ed è la prima concessione sia delle poste telegrafi che anche della cassetta postale perché il borgo originario di Ozzano è questo L'abbiamo citata dall'inizio della puntata, adesso l'abbiamo raggiunta davvero siamo alla cosiddetta Osteria delle Vecchine le Vecchine non ci sono più ma c'è Michele Coladangelo ecco un lunghissimo cognome per una bellissima tradizione perché vogliamo proprio cominciare con i due piatti che hanno caratterizzato l'attività che ha preceduto la sua entrata in scena Esattamente, i due piatti che hanno segnato l'inizio della nostra attività 28 anni fa sono la tagliatella a ragù e il tortellone Buresalvia sono i due piatti prodotti anche dalla vecchia gestione, giustamente come lei ricordava, delle Vecchine e noi abbiamo voluto diciamo onorare e mantenere anche perché sono due piatti forti che non si cambieranno mai Guardi, questa è un'osteria che risale ai primi del Novecento dove c'era questa attività di osteria, c'era un'attività di sale tabacchi, un telegrafo e le Vecchine lavoravano in questo borgo che più o meno raccoglieva 500-600 persone che sotto normo, che adesso purtroppo non c'è più si radunavano alla sera in particolare queste persone per scambiare prodotti, per contrattazioni commerciali e le Vecchine erano sempre operose nel soddisfare queste esigenze dei clienti erano delle persone meravigliose e ci hanno insegnato tanto e conserviamo un grandissimo ricordo Tra l'altro appunto facevano la sfoglia tirata a mano ma esattamente come fate voi perché poi avete iniziato ad approcciarvi alle erbe spontanee e poi vi siete anche legati alla nuova farina di canapa che è particolare Esatto, noi siamo partiti con questi piatti poi abbiamo guardato il territorio e osservato anche i clienti che sono sempre più curiosi nello scoprire cose nuove quindi abbiamo introdotto la tagliatella di ortica con farina di ortica, con le ortiche raccolte qui nel nostro borgo si raccolgono in primavera e in autunno la tagliatella con farina di farro perché il farro è un cereale antico e negli ultimi dieci anni se ne sta coltivando abbastanza e si coltiva anche nel nostro appennino bolognese quindi l'abbiamo introdotto anche per quel motivo lì e in ultimo la tagliatella di canapa la canapa ha una grandissima tradizione emiliana soprattutto nella pianura emiliana dove si conservano ancora, si possono vedere, dei maceri utilizzati per macerare la fibra della canapa che poi veniva sfibrata e veniva tratto proprio il filo della canapa che era utilizzato per tessuto la farina di canapa invece viene prodotta con il seme della canapa utilizzato principalmente per produrre olio perché è molto ricco di omega 3, omega 6, omega 9 e il sottoprodotto viene utilizzato per produrre farina che noi abbiamo pensato di introdurre in questa ricetta accompagnata con un pesto un po' mediterraneo fatto di pomodorini secchi, basilico, pinoli olio extravergine d'oliva e parmigiano reggiano di montagna qui andiamo, avete le bottiglie delle cantine del territorio però ci piaceva come osteria raccontare che erano i tipici contenitori nei tipici bicchieri quando si veniva in osteria assolutamente sì a mio avviso un'osteria deve avere anche un buon prodotto sfuso questa è un po' la mia teoria un buon vino sfuso e noi abbiamo introdotto un pignoletto fermo dei colli bolognesi e un sangiovese dei colli follivesi poi ovviamente abbiamo anche una carta di vini prevalentemente, quasi esclusivamente regionali regionale che fa attenzione un po' al territorio anche ai piccoli produttori piuttosto che ai grandi produttori perché ripeto siamo sempre un po' alla ricerca della novità e anche dell'interesse dell'azienda impegnarsi per produrre meglio e produrre in un modo sempre più sostenibile Allora, noi abbiamo raccontato in maniera precisa quelli che sono i primi che sono il piatto forte sempre in queste terre però ci sono anche ovviamente le carni e poi un aperitivo, antipasto o apertura tipica e tradizionale Esattamente questo piatto è la polenta fritta con lo squacquerone come del resto anche non l'abbiamo qui portata ma la crescentina che può essere consumata come antipasto piuttosto che come secondo Poi abbiamo la cotoletta alla bolognese molto richiesta in questa osteria oltre alle carni ai ferri castrato che la fa da padrone perché qui siamo in zona di confine fra l'Emilia e la Romagna e abbiamo un ottimo castrato oltre alle costroni di maiale la salsiccia, la pancetta degli ottimi filetti tagliata di manzo e buon appetito perché a questo punto io ho la colina in bocca tra l'altro sono molto felice perché lei davvero continua nel solco di questa bella tradizione delle vecchine che erano Maria e Anna e poi c'era anche il vecchione Raffaele che lavorava dietro le quinte lui era addetto al vino Ecco, allora noi visto che invece il vino ce l'abbiamo noi facciamo un piccolo brindisi a metà di questa tranche perché adesso ci resta ancora un passaggio andiamo a scoprire il giardino che non c'era ma che adesso ovviamente ve lo raccontiamo e c'è Buon lavoro Ma che cos'è questo giardino che non c'era di cui vi abbiamo raccontato dall'inizio della nostra trasmissione è questo dove ci troviamo che c'è e come perché la famiglia Sarti che vediamo qui vicino a me Roberto Sarti la moglie Daniera il figlio Filippo hanno realizzato una vera e propria impresa Allora Roberto Sarti come è nata questa che non è un'idea è un'impresa a mio parere Ma è nata nel 2017 volevamo semplicemente farci un orto e abbiamo saputo che nel borgo di San Pietro vendevano un terreno che non era un terreno ma una boscaglia abbandonata e quindi ci siamo detti perché no abbiamo cominciato a pulirla soprattutto Filippo che allora stava studiando e poi piano piano abbiamo capito che poteva veramente essere un posto consentimelo magico ce lo dicono gli altri e abbiamo proseguito l'attività recuperato i porcidi recuperato piante che erano esistenti qua come un vitigno un po' di olivi un po' di cose e poi perché non condividere quindi associazione e dopo da qui è nato tutto quello che vedete quindi conoscenze persone da archeologi a giornalisti a scrittori scrittrici io sono felicissimo e loro magari un po' meno perché fanno tanta fatica grazie a loro lui per tutta la prima parte Daniele adesso come l'hai definita tu prima la martire non so se dovevo dirla magari poi tagliate no scherzo ci stiamo divertendo un sacco tanto impegno e questo è quanto è la nostra storia è tutto quello che verrà collaborazione poi è nata anche col comune la torre ci hanno nominati un po' custodi della torre e occhio vigile sul borghettino e il nostro obiettivo adesso è riportare e portare quello che era l'importanza storica di questo posto quindi riportarlo in vita è quello che insomma proviamo a fare speriamo bene siete bravissimi allora questo giardino le mura tra l'altro qui ho proprio sotto mano il disegno che racconta il pezzo attorno alle mura che è diventato il vostro regno magico avete impiantato dalle erbe officinali alle piante antiche un rosetto meraviglioso non è stagione e quindi è un impegno sul verde è un impegno sull'ospitalità cioè come vivi questo impegno? allora diciamo che sicuramente è un impegno sul verde in primis quindi il taglio dell'erba le potature e poi chiaramente anche per l'ospitalità quindi chiaramente però poi comunque vedo che porta molte persone quindi direi che è assolutamente positivo quindi la vedi anche come tua attività possibile in un futuro prossimo? beh direi che è una cosa pensabile da pensare fantastico quindi l'abbiamo letto non solo luogo magico ma anche luogo del pensiero allora sentiamo mamma Daniela perché le mamme sono quelle che in genere hanno più sale in zucca e ci mettono però anche molta molta fatica del fare intanto mi sembra che siate molto concordi su quello che avete fatto e su quello che si farà? su quello che si farà dobbiamo vedere un percorso ma a divenire sì dobbiamo un attimo capire man mano quello che riusciamo a portare avanti da cittadini beh qui siamo sulle prime colline però chiaramente è un osi nella natura quindi cambia proprio non solo il paesaggio ma anche la prospettiva sì assolutamente è vero e reincontriamo Matteo Di Otto stamattina in vigneto come assessore all'agricoltura adesso qui nel giardino Lemura come assessore alla cultura cultura che qui nel borgo di San Pietro è davvero portata avanti con tantissime iniziative ovviamente anche per quello che riguarda Ozzano ma qui ha una suggestione particolare da alcuni anni grazie all'attività dell'associazione Lemura abbiamo ripreso a rianimare il borgo il borgo che appunto è uno dei nostri di fatto di fatto centro del centro storico del paese e l'abbiamo ripreso a rianimare con tante iniziative di tutti i tipi quindi le arti rappresentate sotto ogni forma quindi voi appunto come in questo contesto performance musicali piuttosto che performance teatrali durante l'anno c'è una bellissima festival anche in quel caso della nostra compagnia OTE e ancora con altri eventi presentazione di libri piuttosto che altri concerti quindi la suggestione nasce dal fatto che ci sono delle radici la nostra comunità il nostro paese si riconosce nel borgo San Pietro e siamo molto contenti di essere riusciti a rianimarlo grazie assolutamente al contributo all'aiuto fattivo importante di una delle associazioni che anima il borgo stesso appunto le associazioni le mura termina qui la nostra puntata ma Ozzano sarà alla ribalta anche la prossima settimana perché vi racconteremo un nuovo formato di pasta gli imbutini ci rivediamo tra sette giorni un nuovo formato un nuovo formato che si rivediamo Agribanking, il tuo partner di filiera. Grazie per la visione!